Una pensionata di 70 anni si è vista recapitare una ingiunzione di pagamento di 23.000 euro per l'acquisto di una BMW. La firma della donna, che non ha la patente, figura sul contratto della concessionaria che ha venduto l'auto. La pensionata ha dovuto chiedere aiuto alla giustizia. Dopo un anno di angoscia, grazie ai risultati della perizia grafologica eseguita dalla dottoressa Valentina Noè, è stato dimostrato ai giudici del Tribunale di Vasto e ai titolari della concessionaria che quel contratto non è mai stato firmato dalla settantenne. Qualcuno ha usato il suo nome, dice l'avvocato Nicola Chieffo, legale della pensionata. Ora sono in corso ulteriori indagini per scoprire l'autore della firma.